Musica Ciao a tutti, vi invidio un po' perché voi siete a Milano sotto il tendone al caldo. Qui a Berlino invece fa molto freddo. Sotto questo tendone è appena incominciato lo spettacolo. Sta per entrare in pista il numero di cui volevo parlarvi questa sera. Come sempre commentato da Walter Nones. A te Walter. Grazie Lara. Siamo al Circo Roncalli per presentarvi un eccezionale numero di gabbia miscola. Insieme nella stessa gabbia ammireremo leopardi, pantera, puma, leoni, orsi bianchi, orsi bruni e orsi malesi. Tutti presentati dal domatore René Strickler. Il Circo Roncalli, famoso nel mondo per la sua magica atmosfera, riesce attraverso le sue immagini a creare la sensazione di un autentico circo romano. Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti